record di affluenza al museo di san francesco a monte falco nel mese di dicembre è stato registrato l'incremento dei visitatori del 14,29 per cento rispetto allo scorso anno con 255 ingressi in più nel solo mese di dicembre i visitatori che hanno ammirato lo splendido ciclo degli affreschi del gozzoli sono stati ben 2039 il san francesco si conferma ancora una volta come uno dei musei più visitati dell'umbria in linea con il treno in crescita in tutta la regione per le festività natalizie negli ultimi anni ha ospitato mostre ed eventi di grande livello in un'ottica di valorizzazione del patrimonio culturale della città di monte falco